Il prossimo governo dovrà occuparsi anche di questo. La Russia ha confermato il referendum nel Donbass per annettere questi territori a Mosca e le borse sono praticamente crollate. Che segnale è? È il segnale che quella è Russia e quindi si riparte da lì. La Russia lì in quei territori potrà fare quello che vuole secondo il risultato scontato di un referendum che evidentemente se dovesse andare in un'altra parte verrebbe rimanipolato. Quindi quello è un territorio russo il che vuol dire che la guerra potrà durare qualche decennio perché certamente l'Ucraina non accetterà che il 15-20% del suo territorio diventi Russia e la Russia una volta annesso non volerà più mollare. Non è certamente una buona notizia. Non è certamente una buona notizia e questo è un tema che però è praticamente scomparso dalla campagna elettorale così come i partiti hanno colpevolmente messo da parte anche molti altri temi importanti. Guardate il punto di Paolo Pagliaro.